Francesco Comi è il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. È stato eletto ieri al termine delle primarie con il 77,16% dei voti. Il suo sfidante Gianluca Fioretti, sindaco di Monsano, si è fermato a quota 22,84%. Il PD è atteso alla prova del cambiamento e io non voglio tradire le aspettative. È stato il primo commento del neosegretario Francesco Comi. Sono però state delle elezioni molto sottotono. Infatti i numeri di queste primarie impallidiscono di fronte ai 94.000 votanti raggiunti l'8 dicembre scorso quando venne incoronato Matteo Renzi, segretario dei Democratici. Ieri solo 12.000, 11.983 per la precisione, tra simpatizzanti ed iscritti, si sono recati nei 220 seggi aperti nelle cinque province marchigiane. Il calo della partecipazione si è fatto sentire in tutte le regioni, ma nelle Marche ha pesato anche la polemica che si è trascinata fino all'ultimo giorno prima del voto legata all'esclusione del sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli. A suon di ricorsi il primo cittadino pesarese aveva sperato di partecipare alla competizione per la segreteria, ma alla fine l'indicazione dai vertici nazionali del partito è stata sempre per la non partecipazione. Dai territori qualcuno storce il naso sulla reale rappresentatività di chi è uscito vincitore da queste elezioni. Infine qualche curiosità, a Tolentino, la città di Comi, i votanti sono stati 492, mentre ad Uffida appena uno.